Cioè quello che dovete fare, raga, è utilizzare il vostro dito, l'indice, ma se vi va bene anche il cazzo potete usare, e andare sul negozio, ok? Una volta che voi sarete sul negozio, oltre a notare ovviamente il nuovo pacchetto di Sylvanas, che spero che anche questa volta Dario mi regalerà, ovviamente non chiedo niente a nessuno. Se voi scrollete, c'è stato a tempo limitato, speciale della festa, gratis, 10 buste, prendetela, dai. Ho fatto una selezione poco curata di queste barate. Ma quelle basta che le lasci in frigo, piano piano maturano, eh. Ho capito, provenzo a chef. Ti ho appena detto. Ma manco di uno. Ma io ripasso il 90% dei problemi, vero. Infatti io, il problema è che in realtà mangio bene, ma mangio orari di merda. Mangio totalmente a caso, una volta mangio ai due, una volta ai cinque, una volta a mezzanotte, una volta alle due. Cioè, posso mangiare bene quanto riparo, ma ovviamente se non segui delle regole vai una merda. Io quando andai dal nutrizionista, ho perso i 17-18 kg in due mesi. Posso dire una cosa che magari è un po' poco popolare, però purtroppo per me, il nutrizionista, bro, è il primo modo per poter buttare i soldi. Ma ti devo dire la verità, Matti, perché io ho tanta ricorda roba lì, non ci avrei manco mai pensato solo di mangiarmela. E ho comunque una coscienza a livello di alimentazione e culinaria che, non ti dico che è altissima, però è sufficientemente alta, no? Ok. Io ho andato al nutrizionista, ma ha aiutato davvero, perché io con la roba lì... Magari perché tu l'hai ascoltato, però... Non te stanno, ho capito? Oppressivamente. Che è tu? Oh, cazzo. Non te stanno là. Non è capito. A dire che devi fare... No. Scamera. Sì, raga, il nutrizionista è sicuramente buono all'inizio per incentivarti. Io non ve nascondo, e quando... For me è passato un anno e mezzo, due, è passato un sacco di tempo. Il nutrizionista mi ci portò mia madre, perché io non volevo andare, cioè non frega un cazzo a me. A me, sinceramente, quanto peso, non frega niente. Non frega niente vedermi bello, io non ho cura di me stesso. Mango io. Perché non mi interessa di me stesso, che è la cosa più brutta, probabilmente. Io non do valore a me stesso fisicamente. Io, è impossibile, va. Raga, quello è un deficit mentale. Vero. Però, in realtà, andare in lì, col fatto che l'avessi pagato mia madre, e non io, perché lei mi ce l'ha portata, ma spronata a dire, non voglio averle fatto buttare soldi. Se l'avessi pagato io gli avrei detto, boh, sti cazzi, whatever. Vabbè, no. Prima di due mesi ho perso appunto 17-18 kg. Però, raga, io mangiavo una sbrega. Cioè, colazione, primo spuntino, pranzo, spuntino, cena. Ho pure lo spuntino notturno, volendo. Sempre roba salutare, roba che riempisse, sì. Però, raga, cioè, 18 kg in due mesi, senza fare attività fisica, era bello greve. Come disse anche lei, ho perso troppo peso, infatti, tre mesi dopo ne ho ripresi 10 kg. Eh, bravo, e via. Quello è... Mangiando male, raga, non mangiando naro. Non mangiando naro? Mangiando proprio fuori modo, fuori orario. Ma però, ma è silenziato, ma anche volendo, sto a vedere. Ho fatto i bilas del problema della via alimentazione, che, realisticamente, me ne so accorto dopo, perché ovviamente l'avevo studiato. Probabilmente mi ha mandato in chetosi, cioè... Grazie al cazzo stavo a perdere peso, non c'avevo carboidrati da nessuna parte. Se non il riso una volta ogni morte decrisso. E te andavo in chetosi in paio di giorni e poi uscivo. Cioè, è stato così. Grazie al cazzo che l'ho perso peso. Eh, raga, è un disastro. Poi prendo un mutano... Non lo so. Io, Cillo, ho perso circa 17 kg in due mesi. Però non giocare Clear the Shin, dai! Fa il serio, fa il bravo! Ce l'hanno sempre, raga, credetemi. Il problema è questo che a me porta gli aggro a essere odiati. Partite troppo corte, come back nulli. Ok, però non c'è che la descina. Quando mi piace gli aggro? E non vi nego, però, che vorrei tornarci da un nutrizionista. Ah, non so. No, ragazzi, ma il mio nutrizionista era un meme, perché... Cioè, me ne so accorto appena ho visto la prima volta. Era... Un nutrizionista in carne, per un Dio obeso. Cioè... Ah, oddio. Già, lì è un paradosso, se ci pensi, no? Vieni da Mitterania, ciao. Niente carboidrati, addio. E proprio in tutto ciò, raga, io ho perso massa grassa, ma ho messo massa magra. Cioè, stavo guadagnando effettivamente muscoli, eh. E quello è il paradosso che non si è capito. Io penso, sicuramente, ad avere qualche problema con la tiroide. Detta pure sincero. Non ci ho mai avuto modo di farmi la controllare. Però se avessi un po' di tempo, mi piacerebbe avere una palestra serale, raga, qua da noi a Zagaro. Se c'è qualcuno qua di Zagaro, palestina, san cesario, in dintorni... Se qualcuno conosce una palestra che è... Che è di sera, una palestra serale... Minchia. Ditemelo, perché io ci andrei volentieri a palestra serale. Purtroppo la mattina non posso. Unplayable. Pomeriggio non posso. Tra l'altro io ho un ruble 2-4. Ah, dove ha blotto, sì, ma... Mamina, stanto io in realtà fumo, ma non... Non bevo, cioè io sono a semio. Questo è positivo, capo. Inza carolo, sì, io sono inza carolo. Senza carolo, quindi, niente energia. E qua è noi, invece, in espoli... E quello è il problema. Allora, io, tra le varie cose, io soffro insonnia, cronica, da 5 anni. Ho parlato anche su Instagram, non so che qualcuno di voi mi segue che ha letto quello che ho scritto a riguardo. Il mio problema qual è? Che anche io non bevo caffè, non assumo caffeina. Non assumo niente con la roba lì. L'ho messo anch'io con lo caffè. E quella è la mia mancanza più importante, raga. Cioè, io sono abitato a prendermi dai 4 ai 6 caffè al giorno. E mo' so tre giorni che non fumo e non prendo caffè. Sono rinato, sono. Però c'ho un nervoso dentro, capo, credimi. Bro, vado a dire un bloodlust. Ho capito. Io a livello di energie, sinceramente... Allora, quando assumevo... Io non bevo caffè, bevo le Monster, ok? Red Bull, quella BNG drink. Quando smisi, per un po', c'ho avuto per un po' di giorni in cui ero eccessivamente stanco. Però ero mega contento. Ho detto, cazzo, finalmente riesco a essere un po' più rilassato, no? Cosa che poco dopo, cioè dopo pochissimo, raga, è sparita. Cioè, io attualmente... Quello che succede al mio corpo, fisicamente, ok? Anche se mi muovo in giornata, se esco, se sto tutto il giorno fuori, indipendentemente dallo sforzo emotivo e motorio che faccio... Considerando sempre il fisso che ho mentale, che posso lavorare, qualsiasi cosa, quello che ti pare... Io, ragazzi, mi sveglio, dormo poco, perché dormo massimo sei ore. Ma di media ne dormo quattro, ok? Sai qual è la risposta a questa domanda, Axel? Forse è il fatto che c'hai vent'anni. Probabilmente, un attimo, io da quando c'erano quindici dormo così poco e dormo male. Eh, vabbè, ho capito! Aspetta! Cioè, non voglio metterti ansia, ma... Sarà sempre più difficile. Sicuramente, è vero. Una cosa che voglio aggiungere è che il problema qual è? Che la mattina sto tutto a posto, al pomeriggio sto bene, arrivo la sera, ragazzi, io non sono stanco. Non sono stanco, ho energie. E nel momento in cui mi mancano energie fisiche, perché magari davvero ho fatto uno sforzo in più del dovuto, le buste legate al negozio sono gratis. Magari ho fatto uno sforzo fisico un po' più pesante. Sì, mi sento fisicamente stanco, ma mentalmente, ragazzi, ho comunque troppe energie. E arriva sempre un momento alle due di notte, regà, fisso, in cui mi si rialza le... Regà, sembra che il mio corpo si sia ricaricato automaticamente, a buffo. Regà, è un problema, perché io non riesco a dormire per sta roba. No, non ti apri la porta che è arrivato a minare, io. So, bro, regà, sta partita è un po' tricky, eh. Però, cioè, possiamo ancora vincere, ha tre carte in mano, lui. Ah, bro, t'ho beccato lei, fa tre danni a tutti, che palle, ma che... perché? E mi ha rubato l'unico penso... Mi ha preso l'unico penso che andava a prendere su quattro, Dio... Ma perché devo vedere ste cose? Un compito oscuro, sfidare la morte. Non posso più... Io non posso più fillare board, abbiate pazienza, basta! Bro, basta! Basta che metta una 3-7 e noi abbiamo perso, perché... Cioè, che carte mi rimangono? Eh, sparg... Spargimento adesso è troppo tardi, sarebbe stata forte prima. Questa fa schifo. Branghia guasta, ormai può essere consigliata a buon'anima. Questa chiuderà partita. Non lo so, regà, sto mazzo purtroppo... Non funziona all'aghi, ma non... Cioè, non va. Aspetta un po'. Asprima di un attimo. La cosa mi dico, aspetta. Aspetta, capo. No, assolutamente è fortissimo, perché appunto vi dicevo... Cioè, è proprio forte. Fortissimo, sì. Questa è gostosa, però forse... Dior. Beh, però... Cioè, troppi mana mi sembra per farla combo col banco di piragna. Questo v'attaccherà subito. Niente, bro, impossibile. Non droppa uno. Uno. Vabbè, vediamoci i murloc. Cioè, i piragna sono delle bestie, probabilmente non sono i murloc. Perchè mi hai chiamato? Questi libri sono rovinati. Flexiamo un po' i nostri... Piragna. Che poi in realtà la starting non è manco male. Però è troppo control per un mazzo come il nostro, capi? Lui... Vabbè, questi sono morti. Great. Great. Passo. Ok, se dovesse rimanere, ragazzi, questo uno in vita... ...e io riuscisse ad appoggiarci il necrolita... ...è importante questa chiamarla beh... Ho capito. Ho capito. Amore! Io sono venuto a salutarvi. Chat. E... Vado a vedere gli avatar. Ok. E niente, buon proseguimento. A poi, a poi. Buon Hearthstone. A poi! Ma mi hanno regalato la sub da positivo. Ciao. No! No! C'è il crentino. No, regà, questo è molto male. Non c'è il nostro fungomante frungle? Questo è molto male. Questa è un'agonia. Beh. Certo, baffa quello che è già più grosso. Complimenti. Bella idea, capo. Bella idea. Campione. E ora mo' ce l'ho però, figlio di puttana. E mo' se è stato punito in maniera beffarda, capo. Oddio. Sempre pesce pagliaccio. Ho sbagliato l'order, regà. Non me ne vogliate così male. Lo fa tre danni in più. Oh, no. Buon si mi fuzza. Bravo, caro. Svorma a forza così. Bro, no. Ma che fai? No. Che svormi? Che cazzo svormi? Io canto di Dio. Audio. Fortissimo. Scusatemi. Scusatemi. Devo traddare adesso, no? Comunque. Rieccomi, chat. Scusate. Stiamo a fare un discorso. Sono sparito. Pardon. Audio. Fortissimo questo mazzo, capitano. Bro. Easy, capo. Easy. Prego, continua anche il tuo discorso. Sarà convinto che la gente apprezzerà molto. Oh. Ok, il troll del flagello l'abbiamo trovato, capo. Ora, posso avere la spella 2 per appoggiarcela? No. Poi sapete che Nanni è uno dei peggiori streamer sulla piattaforma? Sì, è anche condivisibile. Smaller World, non che mi risulti, sono sincero. Anche perché non mi sono mai informato più di tanto, però sono sicuro che fino a qualche par di mesi fa comunque non vi erano. Trinca! Trinca, fammi vincere, capo, eh. Trinca, facciamo cazzate. Non mi piace, ragazzi, giocare con il troll, abbiate pazienza. Stapartita, raga, potrebbe essere spicy, eh, la combo. Cioè, la domanda è, lui mi dà il tempo di fare... Che usavo? Fai, oh. Trinca, il cazzo fai. Che è più difficile, no? Ok, ora possiamo giocare la 1-3. Devo capire, ragazzi, quando voglio andare deep con l'allevatrice. Turno dopo. Vuole tanto giocare la mo' questa. Vuole tanto giocare la mo' capo. Purtroppo... Purtroppo, raga, questa costa troppo. Cioè, sì, vabbè, è OP, eh. Però costa troppo. Costa veramente troppo sta carta. Che è successo? E la giocata era questa. Mo' la 6-4 inizia la... Che cos'è sta roba? Più 3, più 3 di viscina un servitore, infligge 3 danni al tuo eroe. Capito. Bu. Vabbè. Lo sapete già che mi serve, no? Come la battita di prima. A posto. Ce l'abbiamo, capo. Però, ragazzi, me dobbiamo avere la maturità di aspettare un turno. Uno. Allora, i trade. I trade. Facciamo così e andiamo faccia con l'altro. Allora, il turno dopo, ovviamente, è fungomante. E vabbè, è tutto, no? E puliamo tutto. La cosa è, io non ho capito minimamente contro chi sto giocando. Minimamente. Penso che lo capiremo dal turno 7 in poi. Il problema, regà, è che questa è la verità più brutta di tutte. Che Karel minge questa partita da sola. Da sola. Non posso fare niente con Karel su questo mazzo. Karel tra due turni, apriva. Non capisco. Non capisco. E questo è un problema gravissimo. O forse il ce l'ha. Allora, serve il marlocchino. Boom. Sono... Cinque. Quattro, tre. No, mi sa che non serve. È un cazzo il marlocchino. È pur vero che lo possiamo giocare lo stesso. Alla fine sì. Cioè, forse Murlocacciamane è più forte, capo. Vai, bro, bro. Fanto, vai sullo shop. Ok. Ci sono le buste. Dieci. Gratis. E rivendica delle capo. Probabilmente andiamo di Murlocacciamare. Tutto faccio. Purtroppo eravamo un off, ragazzi, nel traddarlo col Murlocchino. Ah, bro. C'ha tre carte in mano. Non può giocare Karel. Se non c'è Consacration abbiamo vinto con questa. Cioè, oddio, non... Non so come, ma vediamo. No, in realtà no. Cioè, non abbiamo Bloodlass. Però, insomma... Regà, sto mazzo ha questo guizzo. Cioè, fondamentalmente il mazzo funziona... Solo con questa carta. E... Engine di Deathrattle. Però la verità, ragazzi, che... Questa roba è rotta, sto mazzo. Cioè, vinciamo solo con questa. E poi, ovviamente, se il suo mazzo ha 30 carte... La prendete con una consistenza rara. Cioè, unica. Scusa, meno rara sarebbe il contrario. Ah, unio! Cabo! GG. 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13 Giusto? Ne bastava uno Secondo i miei calcoli Ho detto una cazzata bro Ho detto una cazzata 3, 4, 5, 6, no? 3, 6, 7 E dai regà Sto appendermi il cuo Ma scusatemi Ma veramente? Ma veramente? Pensate E dai Ah ma non sapete Bene ragazzi Perdete occasioni Per non chiedere bloccate Devo sa schirla Ma guardate Che gente bizzara Certo che l'avevo visto bro L'avevo visto E dai Grazie a tutti.